Visto che si tratta di patologie tempo dipendenti, tutto il tempo che riusciamo a guadagnare è tempo a favore della prognosi del paziente. Si chiama test ed è un casco che può salvare la vita, uno strumento sperimentato adesso dai 118 dell'Asra Toscana Sud-Est per una prima diagnosi del trauma cranico. La macchina è uno strumento in più che si pone nel mezzo tra la valutazione del paziente e l'esame TAC e è uno strumento di screening. Lo strumento individua lesioni ed emorragie cerebrali spontanee o da trauma nella fase di primo soccorso. Il discriminante è quello di poter capire fin dal territorio, non solo dalla clinica del paziente ma anche con un dato oggettivabile, se il trauma cranico, il problema cerebrale di un determinato paziente possa essere gestito in un ospedale piuttosto che in un altro. Lo studio è iniziato in via sperimentale ad Arezzo ed adesso sarà esteso anche a Grosseto e Siena. È stato già approvato dal nostro comitato etico, noi abbiamo fatto 25 casi ma per poter sostanziare quella che è la tesi di questo progetto abbiamo la necessità di avere almeno un centinaio di casi. La tecnologia basata sull'uso di campi elettromagnetici a bassissima potenza è facilmente trasportabile in ambulanza. La testa del paziente viene posizionato nell'incavo che vedete, il paziente deve rimanere fermo per circa 4 minuti per quanto riesce, non emette rumori, quindi è totalmente silenzioso, lo possiamo fare per side. Dà un risultato molto semplice, sì, no. Già i primi studi ci fanno ipotizzare che possa avere altri sviluppi specialmente nel campo dell'ictus ischemico piuttosto che di altri eventi di tipo acuto cerebrale. Grazie a tutti.